Musica Occhio ai giornali, buongiorno a tutti, ben ritrovati, carissimi telespettatori di Fano TV ben ritrovati sul canale 17 in attesa dei giornali che tra poco vedremo sul touch screen il santo di oggi, la chiesa cattolica oggi ricorda Santa Germana, il sole è sorto alle 5.24, tramonterà alle 20.52 come sarà questo 15 giugno? Allora intanto questa è la fotografia del mattino, 7.30, quella dell'osservatorio meteorologico di Fano TV al quale potrete accedere dal nostro sito internet occhiolanotizia.it, 20 gradi la temperatura alle 7.30 oggi avremo cielo poco nuvoloso con maggiori addensamenti nei settori meridionali della regione e nelle zone interne nel pomeriggio possibilità di rovescio temporali sparsi nei settori meridionali della regione, più probabili nelle zone interne le temperature sono in diminuzione nei valori minimi, stazionari e un lieve aumento nei valori massimi per domani, domani martedì 16 giugno, il tempo peggiora ancora, cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nel pomeriggio rovescio temporali sparsi a cominciare dall'entroterra nel pomeriggio per poi estendersi anche alla fascia costiera durante la serata. Le temperature in diminuzione nei valori massimi, i venti di brezza tesa sud-occidentale ma attenzione perché c'è un peggioramento del tempo per metà settimana, quindi mercoledì, mercoledì tempo molto brutto con probabile ritorno a condizioni di stabilità e di tempo brutto si parla questa mattina perché ieri a un certo punto chi era a Pesaro soprattutto ha dovuto fare i conti con il vento forte, un fuggi fuggi dal mare un albero cade su una casa e sui fili dell'Enel, momenti di apprensione ieri pomeriggio tra i bagnanti in spiaggia, blackout a Pantano di Pesaro, per rimuovere la pianta battuta a Pantano sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell'Enel che hanno sospeso momentaneamente il servizio guardate che le nuvole che si sono formate e quando ci sono questo tipo di nuvole in cielo statene certi, arriva quella che una volta poi si diceva, i pescatori chiamavano la tresse insomma il vento forte improvviso con la pioggia, insomma ieri pomeriggio intorno alle 15 fuggi fuggi dalla spiaggia per molti bagnanti, la temperatura è scesa da 30 gradi a 18-20 gradi in pochi minuti e come dicevamo poi questo forte vento ha battuto anche un albero questa è la situazione, ecco l'albero del quale appunto si diceva un brutto quarto d'ora per un catamarano che è stato ribaltato da una forte raffica di vento questa è la situazione del tempo, poi invece la cronaca ci riferisce di un suicidio di una giovane mamma che è stata trovata morta nel fiume tra le ipotesi anche quella del suicidio, un volo di 30 metri dal ponte di Cagli si è vista ieri mattina alle 9 con un amico in un bar della Sassonia di Fano hanno fatto colazione e ricordato i vecchi tempi lei aveva con sé il suo bambino di appena due anni all'uscita del bar ha detto l'amico mi tieni il piccolo un attimo che ho dimenticato qualcosa in macchina certo figurati ti aspetto però poi in realtà non è più tornata una donna di 41 anni laureata in lingue residente a Vibonati in provincia di Salerno poi tutti i dettagli come sempre sul giornale per chi vuole poi da Fano ancora la politica, garbatini del PD, le poltrone distribuite senza meritocrazia comune verso il dopo Minardi sempre da Fano i soldi di Aset usati dal comune come un bancomat lo sostiene il movimento a 5 stelle di Fano andiamo invece a Sant'Angelo in Vado dove Luzzi il nuovo sindaco ha scelto la squadra la squadra di Coltiviamo il Futuro è tutta in campo agli ordini del neo sindaco Gian Alberto Luzzi il neo primo cittadino vadese ha scelto come vice sindaco Romina Rossi la più votata nelle consultazioni che si sono appena svolte nominandola anche assessore all'ambiente, alla cultura e al turismo a Marco Monacchi invece sono andati gli assessorati ad attività produttive, comunicazione e digitalizzazione poi a completare la giunta anche Emanuela Galli che si occuperà di sport, sanità e politiche sociali e Dario Martinelli assessore esterno candidato nella lista Luzzi ma che non è stato eletto e si occuperà di politiche giovanili poi ancora cronaca all'omicidio di Trento Ciccolini l'ultima chance vuol dimostrare che uccise Lucia per colpa di un raptus oggi si apre il processo in corte d'appello questa mattina davanti alla corte d'assisi di Trento si svolge il processo d'appello nei confronti di Vittorio Ciccolini, l'avvocato veronese che il 9 agosto del 2013 ha ucciso l'ex fidanzata Lucia Bellucci, la 31enne di Pergola che dirigeva un centro benessere a Madonna di Campiglio sul calcio scommesse i legali di Ridolfi di precisano di Campli è stato revocato, tolto il mandato al procuratore la mezzanotte magica a Pesaro i bambini conquistano il centro in migliaia tra giochi, risate e illusioni come da tradizione Piazza del Popolo e l'intero centro storico sono stati trasformati in uno spazio a misura di bambino con Pesaro che si è dedicata ai temi e alle suggestioni di magia e musica quelli che fanno, siamo sempre sul resto del Carlino quelli che fanno l'alba con il capriolo si parte quando alla Baia cessano gli ultimi bivacchi gli avvistamenti sono numerosi alle 4 di mattina a Baia Flaminia avviene una sorta di passaggio di consegne quelle di la notte che rientrano a casa non tutti sobri, è del vero dopo i bivacchi in spiagge e quelli all'alba che muovono invece verso il San Bartolo c'è chi è disposto a svegliarsi alle 3 e mezzo del mattino di domenica per andare a osservare i timidi caprioli e poi ecco le fotografie ed ecco il risultato apriamo adesso invece il Corriere di Pesaro anche qui in apertura una mezzanotte bianca da record oltre 40.000 presenze Belloni dice stiamo pensando di portarla a tre giorni con una serata sul lungomare alta la qualità degli spettacoli per una formula rodata Pagnini dice agli albergatori facciano la loro parte arriva il Fortunale bagnante in fuga dalle spiagge vento e pioggia e temperatura picco tante chiamate per i vigili del fuoco ma nessun danno particolare rami e bidoni e cartelloni in strada chi è iscritto alla nostra pagina social network di occhio alla notizia ieri ha ricevuto in tempo l'allerta meteo perché abbiamo dato due allerte meteo ieri sulla pagina di Facebook e davamo la traiettoria del temporale e lo davamo con una decina di minuti forse anche qualcosa di più di anticipo quindi questa era l'allerta che abbiamo dato poi in tempo Boato nella notte salta il banco vanta da Acqualagna invece questa volta è toccato la filiale di Acqualagna della Banca dell'Adriatico dove sono entrati in azione almeno quattro banditi il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 3 e l'esplosione è ottenuta con una iniezione di gas nelle fessure del banco che ha scardinato anche l'ingresso della filiale anche per raggiungere lo sportello erogatore i banditi avevano scardinato l'entrata a colpi di piccone ancora da Fano il Corriere Adriatico viaggio nella spiaggia dei talenti è uno stabilimento all'Arzilla l'unico attrezzato per le vacanze dei disabili realizzato nel 2003 è giunto alla sua tredicesima stagione ed è frequentato da turisti provenienti da tutta Italia riqualificare l'area dell'ex pista dei go-card questa è la richiesta fatta da Ginesi che coordina il comitato che ha sede proprio lì in quella zona poi area di complotto invece Berardi, Pesce e Confucio Alberto Berardi è il vicepresidente della fondazione Carifano che oggi dice se a Fano più di 100 bambini possono andare a scuola tutti gli anni molti anziani avevano una casa dignitosa i malati di Alzheimer una struttura a loro dedicata è grave un luogo in cui decentemente vivere gli studenti universitari una stupenda sede in cui studiare un centro didattico ambientale eccetera eccetera ma anche i bambini di Lucrezia una nuova scuola bene, tutto questo è merito della fondazione di chi l'ha guidata in questi anni poi dice ancora Berardi il resto dell'idea che sia in atto nei confronti di tombare dell'intera fondazione Carifano una crociata che avrà pure e non potrebbe non avere un manovratore il Rotary premia la cardiologia interventistica importante riconoscimento per l'ospedale Marche Nord conferito ad Aldo Ricci Giorgio Binetti e Rossella Fattori scuole di danza a teatro debutto di successo per i ballerini fanesi apriamo il messaggero mezzanotte bianca tra i rifiuti la mentele durante la serata dedicata ai bambini per i sacchetti del porta a porta ancora in strada un consigliere di quartiere critica e dice la situazione intollerabile in centro storico a Pesero d'estate con i turisti orti urbani nuove regole per aiutare chi ha bisogno orti urbani nei terreni pubblici a Fano ora c'è uno specifico regolamento a favore di organizzazioni Ollus disoccupati e giovani agricoltori l'atto è stato predisposto dagli uffici comunali consultando le associazioni di settore e presto sarà valutato dalla commissione consigliare competente anche qui in evidenza la fotografia con la tromba d'aria fuga dalle spiagge cade un albero a pantano e trancia i cavi dell'Enel ieri pomeriggio tanti problemi a Pesero e nei dintorni per alberi rami caduti e anche qualche allagamento le aziende invece salgono sul treno dell'export ancora in crisi le esportazioni marchigiane ma il distretto del mobile torna a farsi valere se la ripresa passa dall'export la provincia di Pesero sembra aver agganciato quel treno con il distretto del mobile che torna a farsi valere le esportazioni infatti nel primo trimestre 2015 sono aumentate del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente superando quota 512 milioni di euro si tratta della miglior performance a livello regionale secondo i dati Istat elaborati da Aspin 2000 Terre di Rossini Raffaello l'azienda speciale della Camera di Commercio Aset cresce il fatturato e calano le tariffe fatturato pari a 37 milioni utili per un milione e mezzo un fondo anticrisi per famiglie indigenti con disponibilità di 300 mila euro sono questi in grande sintesi alcuni numeri tra i più rilevanti nel bilancio consultivo 2014 di Aset S.P.A. Il meteorologo del messaggero ci indica giornate di pioggia l'abbiamo visto all'inizio della nostra segna stampa pensate oltre 100 mila fulmini sono caduti nel settore nel solo settentrione hanno fatto due vittime sulle Alpi ma e danni innumerevoli le linee di instabilità hanno provocato precipitazioni intense in particolare tra l'intero nord ovest Toscana e pienure di Veneto e Friuli ma come abbiamo visto il maltempo colpirà mercoledì anche la nostra regione è tutto grazie per aver seguito la rassegna stampa saluto anche tutti quelli che ci seguono in replica un demand sul sito internet questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito arrivederci e a domani Grazie a tutti